Ciao ragazzi sono Pingu e bentornati qui in questo mio nuovo video, vi rubo 10 secondi solo per ringraziarvi da appunto dei mille iscritti, un traguardo bellissimo, adesso vorrei puntare sempre più in alto continuerò a fare video ogni giorno e continuando appunto a regalarvi un sorriso, una gioia un dire questo qua è scemo, vabbè questo lo sapete già, ma va bene vi lascio una piccola compilation di un paio di spaventi, classica diciamo come serie del mio canale appunto gli horror e non solo, e niente, grazie mille ancora a tutti, vorrei vedere se riesco a portarvi ancora uno speciale in qualche maniera, magari con più clip, vediamo come riesco a farlo, e niente vi ricordatevi di like, commenti, iscrizione, se non lo fate vengo a cercare ovviamente il picchio classico telecomando, instagram, youtube e tiktok, non possiamo altro ancora che grazie mille, è un traguardo immenso adesso puntiamo ai 2000 e crescere sempre insieme, sempre appunto di più, per puntare poi ai 10.000 100.000 al milione e conquistare completamente il mondo, ma questo è un altro conto, grazie mille ancora a tutti e vi lascio a un paio di risate con me che salto dalla sedia, ma va bene, ciao e grazie mille ancora ovviamente 360 gradi, se no non è divertente porca allora, noi iniziamo così perché qua finisce male, inizia malissimo calma, sono uscito a spaventarmi con la porta che si apre se dico che ho il telefono che c'è una qualità orribile, quindi devo tenere tutte le luci accese perché se no non mi vedete ragazzi ragazzi voi vedete probabilmente la mia mano alla sinistra del mouse che si sta muovendo per girare la visuale no vabbè ragazzi, se questo è un gioco io non lo faccio manco sotto tortura no, 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 non aprire quella porta non aprire quella porta, da film a videogiochi un attimo no, 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 no no no, no, no non farlo, non fa no vabbè, ora sei scemo cosa stai facendo? porca butta io non mi giro eh ma baffan ma baffan cristo che è successo? ho perso le cuffie ma vabbè naggia ma sì, fai gli horror, tanto, tanto è divertimento, probabilmente voi vedete questo video che io sono in vacanza ma che bello che cacchio succede? cosa è sta luce rossa? cosa c'è dietro di me? satana no, non c'è nessuno bene si chiama horror in the buff quindi horror nel bagno in casi estremi che ci cagliamo addosso siamo già nel posto giusto ottimo madonna mia che ansia vai porca butta ma andate a quel paese mi sono riuscito a spaventare con l'intro iniziamo malissimo iniziamo malissimo quanto cacchio era alto il volume abbassate un po' perché sennò muoio dimortacci mia ciao e comunque ma comunque un po' s'allegro io ve lo dico porca butta ma io non potevo fare come speciale di compleanno reagisco a my little pony no no video horror è sparito l'audio ma non un buon segno che cosa è successo? è esploso tutto è andato via l'audio non è colpa mia dove si ria porca butta cioè il video più schifoso del cacchio vi l'avete suggerito nei commenti io sono riuscito a spaventarmi girando la visuale per stoppirla qua guarda qua guarda qua guarda cioè ditemi se non è brutto è brutto una maschera un po' più sexy però cioè almeno vai a quel paese non sto capendo niente ci stanno portando un tipo una sedia a rotte e porca pu... mi sono cagato addosso perché ho girato la visione e mi sono trovato uno in bianco davanti no ragazzi non è un buon segno non sento battere il cuore da nessuna delle tre parti né dal petto né dal collo né dal polso non è un buon segno dove cacchio siamo ragazzi c'è un manico mio l'avevo capito però nel senso io non mi giro col cacchio che mi giro ti è che mi giro adesso lancio le cuffie adesso lancio le cuffie ok andiamo avanti non so quanto duri ancora perché sinceramente non lo voglio neanche sapere mi passa a concludere è mezzanotte? la mamma mi ha detto che in teoria alle 9 dovremmo essere in letto se è mezzanotte è un po' tardi se mi becca è finita mi sa che l'ho invocata adesso arriva la mamma e chi non la conosce recuperi tutte le altre provano a spaventarvi spaventarti in questo caso no no se arriva la mamma è finita ve lo dico oh io non mi giro eh col cacchio che mi giro io sto fermo e fisso là porca no 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 è quella che sta arrivando la mamma e niente l'ho invocata sapevo io sapevo io che devo farmi i cacchi miei porca no 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 adesso mi picchia porca e vabbè allora ditelo e allora ditelo anzi lo dico io c'ho la mamma brutta anzi c'avete anche la mamma brutta qua ormai abbiamo tutti la mamma brutta e ormai che cacchio è successo a ste cuffie vabbè concludiamo che manca poco adesso mi arriva uno di quelli jumpscare che lancio tutto porca è che non lo sapevo io ma vaffanculo scappa porca no 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 ragazzi 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 no 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 mi sto per morire ragazzi porca ragazzi no 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 sì vabbè vai sì usiamo anche il telecomando ragazzi no 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 ragazzi no mi sto cagando addosso in una maniera pazzesca penso che sia veramente il peggior horror che abbia mai registrato ragazzi ragazzi sto sentendo un rumore a destra no 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 ok non andavo meno male ragazzi sta perfetto finirà malissimo ve lo dico porca 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 Bene, penso che con la pelle d'oca dopo un secondo, e la potete notare, il fregno della madosca lì, penso che posso tranquillamente salutarvi e dirvi ciao, non lo faccio da tanto, mandatemi a quel paese. Guarda che sono minorenne e ti denuncio. Comunque gran fregno, eh. Ciao. Porca bu... Non pensavo che mi attaccassi in questa maniera, quanto il fregno mia mamma lì. Mi mancava prendere un jumpscare del genere, vi giuro. Mi mancava veramente tanto. Di mortacci ostra. Già che siamo in mezzo a un corridoio. Porca! Baffanculo! Baffanculo! Stavo dicendo, un corridoio con tante di queste porte appena comparse un coltello davanti a me. Perfetto, finisce malissimo oggi. Annaggia! Annaggia! Eeeh! Ciao! Ecco. Per chi non la conoscesse, questa è la mia ragazza. Annaggia! Porca... Ecco perché nella realtà io sono single. Per evitare questi problemi. Mi fanno paura perché quando sono ferme non posso muovermi. Mi cago due volte addosso. In più. Non è normale. È in pena morta. Che è successo? Un medico. Cioè, non ho capito. Al transizione questa questa si è tagliata. Ma c'è il collo... Mannaggia! Mi hanno tagliato il collo. Bene! Mannaggia. Evidentemente è il mostro. Il fantasma. Mia zia. Chi si ricorda della zia? Soprattutto della mamma. Negli horror. Questo è un altro conto. Adesso questa qua si alza. No, se ne va direttamente. Ma giustamente una che è appena morta, sgozzata, giustamente si alza e se ne va. Ma vaffanculo. Ah! Porca... Oh Cristo Dio! Qua finisce male. Io pensavo di portare i vari amnesi a che ci può stare come horror anche se sono un po' vecchi. Salve! Madre? Sorella? Cosa ride? Porca! Bene! Ci hanno volate ovviamente già le cuffie e anche il pe... Giustamente. 2024. Non cambia un ca... Ma dove ca... Ma è di morta... Ah! Poi dopo ve lo abbasserò in editing. Ma è di mortacci? Ma io sono matto e lo tengo alto. Porca di quella... Perfetto. Allora... Grazie.